Intervenire attraverso manovre corrette è importante, ma farlo in maniera rapida e precisa può esserlo ancora di più. Meglio non improvvisare quindi se ci si trova di fronte ad una persona in arresto cardiorespiratorio. La preparazione per affrontare simili casi d'emergenza diventa fondamentale. Lo spiegano a Trinitapoli, dove nessuno ha ancora dimenticato la tragedia dello scorso febbraio quando un ragazzo di soli 13 anni morì per arresto cardiaco al termine di una partita di calcetto. Non è caso quindi che l'Associazione Nazionale Carabinieri della città Ofantina abbia voluto organizzare un corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce tenuto dai strutturi specializzati dell'Associazione IRC. Sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, dicono, è importante per evitare che in futuro si possano verificare altri drammi inaspettati. Questo corso è un corso di BLSD, di rianimazione cardiopolmonare di base, con l'uso del defibrillatore semiautomatico, è un corso che mira a formare la popolazione non sanitaria, quindi laici, alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, quindi di base all'uso del defibrillatore. Un corso accreditato in Regione Puglia per poter dare anche l'autorizzazione a defibrillare. Medici e infermieri hanno spiegato con dimostrazioni pratiche i comportamenti da tenere e le manovre salva vita da attuare nel caso ci si trovi di fronte ad una persona in arresto cardiorespiratorio o ad un bambino in fase di soffocamento. Le prime cose da fare sono quelle di valutare una persona che sia realmente in arresto cardiaco e capire se è incosciente e se è in arresto respiratorio, quindi la popolazione laica è quello che deve valutare e attivare il sistema precoce di emergenza. Nel contempo però è necessario iniziare immediatamente una rianimazione cardiopolmonare, quindi non perdere tempo, massaggiare una persona che è in arresto cardiaco e cercare di trovare nei tempi più brevi possibili un defibrillatore semi-automatico per poterlo usare in attesa del 118. La rapidità nell'intervenire è fondamentale, per questo motivo è necessario incentivare la diffusione dei fibrillatori nelle palestre e negli impianti sportivi. Aggiungo è indispensabile perché solo in questo modo si riesce a essere precoci ed aumentare le percentuali di sopravvivenza del soggetto colpito ad attacco cardiaco. Grazie.